Ben trovati da Alessandra Leardini della redazione del settimanale Il Ponte al consueto appuntamento con la rassegna stampa del nuovo numero di domenica 12 ottobre, numero che ricordiamo esce questa settimana insieme al supplemento mensile economico 3 Tutorimini Economia. Andiamo subito a dare uno sguardo alla prima pagina dedicata a due santi riminesi Alberto Marvelli e Amato Ronconi santi che pedalano il titolo del ponte, possiamo vedere nell'immagine anche il manifesto dedicato al beato Alberto Marvelli con la sua vita e una signora che prega alla sua tomba nella chiesa di Sant'Agostino. Il sorriso e la bici di Alberto sono il suo dono alla città e alla chiesa. Monsignor Mansueto Bianchi, assistente nazionale di azione cattolica con il suo discorso in Sant'Agostino ha inaugurato l'anno dedicato a Marvelli a 10 anni dalla beatificazione. La sua bici aveva due pedali, ha detto Don Bianchi. Quello della ricostruzione della città come casa di relazione e di amicizia civile è quello dell'educazione, la formazione delle coscienze. E in bici, pedalando, è andato in cielo, in paradiso. A far festa lassù con lui un altro laico vissuto 700 anni prima che la chiesa proclamerà santo il 23 novembre, amato Ronconi di Saludeccio. In attesa di scoprirne qualcosa di più, di avere uno sguardo anche agli altri argomenti in taglio alto, in prima pagina, il mistero, chi si muove dietro la cordata a Riminum, si parla dell'attualità riguardante l'aeroporto di Rimini-San Marino. E poi l'opportunità, scuola per adulti, quando i banchi sono un'occasione. Si parla anche della ricorrenza, crescere insieme, festeggia i suoi primi 10 anni. Stiamo parlando dell'associazione di genitori riminesi di persone con sindrome di Down. Nelle pagine della provincia, Riccione, lo sblocca Italia, riaprirà a Erabano la terza linea. A Cattolica, Palazzo Mancini vuole vendere una sua farmacia a Verucchio sulla nuova viabilità e sconto tra comuni e commercianti. Spazio anche a Savignano, Asp del Rubicone. Dopo la rottura arriva il terremoto. Cominciamo a sfogliare alcune pagine del ponte partendo da Armato Ronconi che verrà proclamato santo domenica 23 novembre da Papa Francesco. Nell'attesa anche Rimini e Saludeccio, che è il paese che diede i Natali proprio ad Armato Ronconi, ci sono diverse iniziative, tra queste il Cammino dei Beati, presentato durante il Festival Francescano di Rimini. Un cammino proprio che collega Rimini a Saludeccio, toccando luoghi significativi della vita dei beati Ronconi, Marvelli, Enrico Dungheri e Elisabetta Renzi. Nello spirito di Francesco e Benedetto, in questa pagina, si parla della vita proprio di Amato Ronconi. Spazio anche all'attualità, dicevamo, parliamo su questo numero di aeroporto. Siamo andati a cercare di capire chi c'è dietro questa cordata, il Rimini, un che si è aggiudicato provvisoriamente, il bando Enac per la concessione trentennale del Fellini. E allora ci sono già quattro imprenditori locali in questa cordata, ma altri si stanno aggiungendo. Tra questi il presidente di un'industria Rimini, Paolo Maggioli, che ci ha detto, ci sto lavorando, così come altri imprenditori locali. Insomma è un po' il balletto dei nomi in questi giorni, però quello che più interessa al ponte è stato andare a vedere un po' come si è formata questa cordata. Chi c'è dietro si fa il nome di Laura Anfincato, veneziana, che sarà il prossimo presidente, ma c'è anche il problema di garantire la continuità dei voli. Infatti ci sono proprio in questi giorni degli incontri con il curatore Enac, la stessa cordata. Il ponte ha ipotizzato un passaggio di consegne Lampo proprio ad Air Riminum per cercare di non chiudere l'aeroporto. Cambiamo argomento, restiamo in tema di attualità, però trattiamo quello della scuola, perché ci sarà la prima campanella il 15 ottobre per 20 classi. Stiamo parlando della scuola per adulti. Infatti una ventina di classi in questa provincia sono impegnate fra alfabetizzazione e media. 9 su 10 sono stranieri italiani a caccia di diploma. Siamo andati a curiosare anche in qualche storia. Si parla di Angela e della sua nuova sfida. 74 anni sarà infatti fra gli alunni che torneranno in classe il 15 ottobre, ma c'è anche Rossella Emiliani, che è la mamma, tra virgolette, degli adulti con la cartella, che insegna proprio in queste scuole per adulti. Cosa sai di me? Siamo parlando delle iniziative per il decennale dell'Associazione Riminese Crescere Insieme, l'Associazione dei Genitori di Persone con Sindrome di Down. Allora, l'occasione offerta dalla giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, tanti appuntamenti a Rimini. Tra questi abbiamo parlato anche dello spettacolo a cura di Riccardo Bianchi, che oltre ad essere vicepresidente dell'Associazione e anche papà di una bambina con sindrome di Down ha voluto, proporrà, insomma, attraverso questo spettacolo della sua esperienza personale. Non siamo eroi, dice Bianchi, non siamo matti, siamo solo mamma e papà. Spazio anche a una mostra di Jérôme Lejeune, che cos'è l'uomo e perché te ne ricordi. Andiamo ora a sfogliare altre pagine del settimanale Il Ponte. Dicevamo ampio spazio in questo numero, oltre che ad Amato Ronconi, al Beato Alberto Marvelli, per le iniziative del decimo anniversario della sua beatificazione. Allora, l'anno marvelliano è iniziato con la Messa Sant'Agostino, la presentazione del docufilm Siamo fatti per il cielo, ma ci sono molte altre iniziative nei prossimi giorni. Abbiamo ricordato anche la lettera ai giovani, che ha scritto come di consuetudine il Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, continua la bella tradizione del Vescovo di scrivere ad Alberto, declinando le abbiatitudini. Quest'anno risuona Beati i puri di cuore. Andiamo avanti a sfogliare Il Ponte, arriviamo direttamente nelle pagine della Cultura, per la festa di San Gaudenzo, perché questo è anche il numero che anticipa la festa del patrono di Rimini. Abbiamo ricordato il concerto maggio riminese che si terrà in Basilica con musiche di Schubert. Ma c'è anche spazio per una notizia curiosa, un vero e proprio caso. Festeggio a nove decenni di carta, ha accompagnato la crescita di intere generazioni, stiamo parlando del giornalino, a Rimini vanta lettori che non ti aspetti, ed è utilizzato per educare. Festeggia quindi 90 anni, il ponte l'ha ricordato. E poi concludiamo con le pagine della provincia. A Riccione, primo anno di attività per Costa Parchi, che fa un po' un bilancio di questa stagione, calo ad acqua fa un per effetto del maltempo. Nonostante questo punto critico, però gli altri parchi che sono entrati a far parte del gruppo, tra cui l'acquario di Cattolica e Italia in miniatura, oltre mare, hanno registrato invece un forte aumento di visitatori. In Balconca si aspetta con ansia che ci faccia provincia. Le elezioni per la nuova provincia sono previste domenica 12 ottobre. I comuni a sud di Rimini sono particolarmente interessati. attendono le elezioni infatti del Consiglio del nuovo ente provinciale, perché avere o non avere dei consiglieri di casa può fare molta differenza, ricorda il ponte. Nella pagina di Sant'Arcangelo, bilancio dei primi 100 giorni del sindaco Alice Parma, che ha illustrato gli interventi già avviati e i programmi futuri. Si parla invece a Verucchio di nuova viabilità, una vera e propria rivoluzione che sta creando non poco scompiglio fra i commercianti e l'amministrazione comunale. Dopo via Garibaldi si cambia anche in via Mondaini. I commercianti dicono così ci penalizzate. Il sindaco tira dritto, ma tende la mano per segnaletica e arredi. Stefania Sabba, appunto il primo cittadino di Verucchio, dice che evitare svolta a sinistra significa eliminare pericolose possibilità di incidente, oltre che migliorare viabilità e sicurezza. Nella pagina del Rubicone, invece, si parla della rottura il CDA contro il comitato di distretto Rubicone Costa. C'è un vero e proprio terremoto nell'ASP del Rubicone. Cambia la gestione delle case di riposo, l'azienda non darà più indicazioni alle varie cooperative presenti. Ricordiamo che anche su questo numero c'è ampio spazio allo sport locale, dal calcio al basket. Con questo numero, dicevamo, c'è anche il supplemento mensile tra Tutorimini Economia, ampio spazio alla disoccupazione giovanile al progetto Garanzia Giovani, che però parte un po' a rallentatori in questo territorio, ma spazio anche alla rabbia degli imprenditori per quanto riguarda il fisco. Ecco, tante notizie per il ponte che esce con tre. Questa settimana, domenica 12 ottobre, non vi resta che augurarvi buona lettura. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS